E' come bailar contigo E' come bailar contigo Oh, senza ghiaccio per favore Oh, andiamo non so dove, diplomiamoci in hangover Spottiamoci la pelle e poi cambiamoci colore Prendiamoci le stelle, che il resto non ci serve Almeno fino a Sestembre Voglia di andare più fuote Non ci passerà questa notte Voglio vedere le luci dell'alba cambiare il colore Ehi, voglio ballare 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 Perché lottare qui Con quelli che ci sono avanti E arrivare terzi È davvero una grande soddisfazione Sì, in realtà Questa è una gara Che amiamo particolarmente Per le strade Per la gente Per il calore che c'è sempre Io in realtà Sono della provincia di Salerno Casarano Relidimo È la scuderia Che ci segue Che è leccese In pratica Invece Mirko è di Frosirone, quindi un po' più distante. Ancora più distante? Sì, però nonostante la distanza siamo sempre presenti con molto piacere perché ripeto le prove sono bellissime, questa gara mi piace particolarmente, anche se l'abbiamo fatta per soli tre anni. Come dicevi tu, quest'anno era particolarmente difficile poter contare alla vittoria oppure alle postazioni del podio perché c'erano comunque Giuseppe e Totoriolo che già di per sé sono dei professionisti, quindi hanno un passo differente. Poi comunque Giuseppe giocava in casa e quindi diciamo che qui è un po' il re di questa zona. Però confrontarsi con loro anche sulle prove, diciamo quelle di oggi che sono più un po' adatte al nostro tipo di guida, abbiamo visto che comunque i distacchi non erano tantissimi. I problemi di adattamento alla macchina anche perché questa vettura ce l'hanno fornita. terzi di classe, l'equipaggio numero 5, Gianluca ad alto e Mirconi Burdi, Casarano Rally Team, ma in realtà abbiamo detto provenienze Salerno e Frosinone. Allora ragazzi, sì, arriva di là. Allora ragazzi, sì, arriva di là. Ci sono amministrazioni del gruppo di Sant'Angelo per la foto, visto che ci sono, prima di consigliare le coppe chiedo all'antico Cesaro di andare. Coppa di terzo assoluto, insieme al direttore, per l'equipaggio numero 5. Scusate, equipaggi, c'è il pubblico che vi applaude, quindi facciamo bagnare un po' anche loro, forza. E questo è il Salone Sansone secondi d'Auto Liburdi, terzi all'ottavo Rally Porta del Gargano. Ottava edizione di un rally che ormai, come sentite da tutti gli equipaggi, e sicuramente lo sentiremo ancora, da chi si avrà sul palco.